Molto bene, ci siamo. È arrivato quel momento dell'anno in cui ci fanno sapere che sta per arrivare il nuovo iPhone e anche quest'anno dobbiamo dire due paroline su questa nuova uscita. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e quindi un iPhone in mano mi è capitato di averlo nella vita. Sì, perché ultimamente, vista la destinazione finale delle fotografie che facciamo, io trovo che il prodotto, lo smartphone, sia diventato sempre di più una fotocamera e videocamera, molto più che un telefono. Ormai è fondamentalmente un computer in grado di catturare immagini di buona risoluzione con cui possiamo fare la nostra comunicazione social. In buona sostanza lo smartphone è questo ormai, è una fotocamera e videocamera dedicata al mondo social e quindi ovviamente avere la qualità in più ci permette magari di spiccare sui nostri competitor che sono rimasti a un modello precedente. Io per esempio ho un iPhone 11 Pro, quindi sono molto indietro, ma andiamo a vedere perché il 15 Pro potrebbe essere veramente una svolta. Ci interessa molto poco parlare del nuovo design in titanio, lo stesso utilizzato per le astronavi, ci interessa veramente molto poco. È uguale a prima, non è cambiato praticamente niente, dicono che sia più robusto e più leggero, però secondo me se lo facciamo cadere il risultato sarà sempre lo stesso, quindi è bello sapere di che cosa è fatto, ma non è questo che ci interessa. Potremmo parlare del chip A17 Pro, che è una cosa che ci interessa, perché comunque anche grazie a questa evoluzione tecnologica che siamo in grado di portarci a casa queste belle immagini che andremo a vedere tra poco, ma non è nemmeno questo di cui vi voglio parlare. Nella pubblicità Apple sta spingendo moltissimo sul fatto che questo sarà il telefono con la grafica migliore, più brillante, più scattante, più immersiva di tutti i tempi e sarà peraltro anche il telefono più adatto ai videogiochi che sia mai esistito, quindi sarà una vera e propria console da videogiocatori. A me questo non interessa, a qualcuno può interessare, ma non è questo su cui mi voglio focalizzare. La cosa che per quanto mi riguarda è assolutamente rivoluzionaria è proprio la fotocamera. Al di là dei 48 megapixel sulla fotocamera principale, a me quelli interessano veramente pochissimo, 12 erano più che sufficienti, però sulla principale ne abbiamo 48. Ma la vera novità sta proprio nelle fotocamere di questo telefono, perché grazie a un complicato sistema di specchi che non ho capito e che non ho la pretesa di starvi a spiegare adesso e non avendo ancora neanche approfondito, ci consente di avere non più tre, ma sette obiettivi intercambiabili all'interno dello stesso telefono. Questo è veramente rivoluzionario, perché se una volta con questo io potevo avere un ultra grand'angolo, un grand'angolo e una lente che poteva assomigliare a un tele, adesso posso vantare una gamma di lenti completamente rinnovata che va dal 13 mm fino al 120, passando per delle lunghezze focali molto interessanti come il 24, il 28, il 35 e il 48, che potrebbe somigliare a un 50. Ovviamente queste fotocamere sono state anche migliorate, quindi per esempio sull'ultra grand'angolo abbiamo, sembrerebbe, la possibilità di scattare da molto vicino, quindi di fare anche macro estrema col grand'angolo, una cosa che a me piace molto. E avremo anche la possibilità di ottenere immagini migliori con scarsità di luce anche con il grand'angolo, cosa che sui modelli precedenti, per esempio sul mio 11 Pro non era possibile. Già sul 12 mi sembra di sì, però se ho capito bene questa funzione è stata ulteriormente migliorata. Un'altra cosa che un po' cambia le regole del gioco è la resistenza agli alti ISO, quindi la possibilità di scattare in condizioni di luce veramente precarie. Sembra che questa nuova release dell'iPhone 15 Pro sia in grado, e Apple ha rilasciato delle immagini, quindi effettivamente sembra che sia in grado di catturare delle immagini belle anche con una luce molto scarsa. Capite bene questo che cosa significa? Se io prima mi dovevo portare una strumentazione complicata, magari con un treppiede, magari con un flash per fare quella foto, mettendoci anche del tempo a scattarla e del tempo a post-produrla, adesso BAM! La faccio, è pronta subito, la condivido sui social direttamente, niente post-produzione se non sbattere su un filtro di Instagram, niente attesa perché la faccio ed è subito pronta, sembrerebbe veramente essere la fotocamera che tutti quanti vorremmo avere in tasca. Un'altra funzione che mi è piaciuta molto di quelle che ho visto nel video di presentazione è la possibilità di utilizzare la modalità ritratto anche sulle foto che abbiamo già scattato, quindi finalmente questa funzione diventa retroattiva, ovvero che cosa significa? Io scatto una fotografia, decido che voglio sfocare qualcosa, magari scatto una fotografia con due soggetti, decido che voglio sfocare uno dei due, la trasformo in modalità ritratto dopo averla scattata e sfoco uno dei due e posso anche cambiare il fuoco, posso decidere di mettere a fuoco uno o l'altro per vedere come viene meglio. Veramente bellissimo, questa è una cosa bellissima ed è uno dei feticci di tutti i fotografi perché noi fotografi vecchi quando scattiamo con una lente vera col vetro non possiamo farla questa cosa. Noi una volta che abbiamo messo a fuoco in un punto, sì c'è qualche trucchetto che possiamo usare per esempio sulla 5D Mark IV, mi pare di ricordare che c'è un giochino che possiamo fare per avere un po' di gioco sulla messa a fuoco anche in post produzione, però raddoppia il peso delle immagini e non è altrettanto efficiente perché lì abbiamo un millimetro di gioco su cui far ballare la nostra messa a fuoco, qui stiamo parlando di decidere in post di mettere a fuoco magari me o di mettere a fuoco una persona che sta 20 metri più indietro, quindi è un gioco completamente diverso. Che dire, sono veramente curioso di vederlo in azione, usciranno sicuramente una marea di contenuti in questi giorni in cui ci faranno vedere tutte le caratteristiche di questo telefono. Abbiamo parlato della fotocamera ma una parte interessante è dedicata anche al video e interessa molto anche al sottoscritto perché in questo momento io sto utilizzando tante cose diverse per fare video e che cosa succederebbe se mi dicessero che da adesso in poi posso usare uno strumento solo, uno strumento che andrà a costare meno della fotocamera che sto usando per riprendere adesso e che non avrà bisogno di obiettivi che anche quelli sono un costo a parte perché ce li avrà già tutti quanti incorporati. Ebbene questa è una possibilità che lo ammetto, non mi dispiace per niente. Ho trovato veramente sbalorditiva la presentazione durante la quale si parla di registrare in Apple ProRes a 60 frame al secondo con la possibilità di attaccare il nostro device via USB-C a una periferica esterna, quindi avremo la possibilità di utilizzare il nostro iPhone come una macchina da presa cinematografica per catturare filmati pesanti, filmati seri, filmati non quello da sbattere su TikTok pronti via. Un filmato su cui poter lavorare, su cui poter mettere le mani, su cui poter intervenire con i colori perché sarà un filmato con un peso tale, con una ricchezza di informazioni tale da consentirci di lavorarlo e questo per me, per qualunque videomaker è incredibilmente interessante. Saranno ovviamente file molto pesanti. Questo è il più grande contro, secondo me, fino adesso di questa nuova release perché ovviamente Apple ti mette a disposizione dei piani cloud che adesso sono anche espansi. Si arriva a, vorrei dire una stupidata, ma credo 12 tera, qualcosa del genere, cioè veramente tanto, però questi sono piani a pagamento. Quindi ovviamente il gioco di Apple è un po' quello. Da un lato ti dà un formato megaprofessionale, straperformante, dall'altro però ti dice però se vuoi lo spazio di archiviazione me lo paghi a parte. Quindi questo è un grandissimo contro perché ci stanno dando tantissimo potere nelle mani, però ci stanno anche dicendo che dobbiamo continuare a pagare per poterlo utilizzare a pieno. Bene, ma tiriamo le somme. Che cosa ne penso di questo nuovo smartphone? Allora, metto le mani avanti e vi dico subito che non so se lo comprerò. Perché? Dovete sapere che ho appena cambiato la cover al mio vecchio telefono e adesso mi seccherebbe cambiarlo e quindi perdere anche la cover che ho appena comprato. No, scherzo ovviamente. Non so se lo prenderò ma semplicemente perché il mio vecchio telefono funziona ancora benissimo e mi permette di fare tutto quello che ho bisogno di fare in questo momento. Una cosa è certa, fra sei mesi, fra un anno, se io dovessi cambiare telefono sicuramente non prenderei più in considerazione un iPhone 13 Pro, sicuramente non prenderei più in considerazione probabilmente neanche un 14. Perché le cose che ho visto sull'iPhone 15 Pro mi hanno convinto, mi hanno convinto che io potrei veramente andarmene in giro senza la macchina fotografica, mi hanno convinto che io potrei veramente portarmi a casa degli scatti che mi diano la soddisfazione quantomeno di postarli sui social senza dovermi più portare dietro quell'ingombro e avrei anche la flessibilità per fare tutto quello che voglio con quest'ingombro e non più con una borsa pesantissima che un po' fa anche male alla schiena. Quindi il piacere di scatto è una cosa, il piacere di scatto massimo io lo ottengo quando ho i miei tre piedi pesanti, la mia bella camera, il mio schermino a parte, il mio rig, tutte le mie cosine, quello mi dà piacere. Però se io sono in giro alla buona, sto prendendo l'Apple Martini e sto guardando un bel tramonto, posso tirare fuori questo e posso portarmi a casa una foto che posso vendere su una piattaforma di microstock, postare su Instagram, postare su TikTok, tenermela in archivio, usarla per fare un fondale di una band che mi ha chiesto uno sfondo con un tramonto. A questo punto io so che con un telefono come questo si possono veramente fare dei lavori professionali, non per niente 15 pro. Devo dire che sul sito di Apple hanno messo la parola professionale, l'hanno veramente usata come il prezzemolo, ogni sette parole hanno buttato dentro professionale, anche un po' meno secondo me, poteva bastare. Probabilmente sarà compatibile con i flash da studio, magari avrà già un'integrazione e potrà quindi interfacciarsi con delle luci come per esempio le mie, io ho le Godox con il loro trigger, sarebbe sufficiente un cavetto di collegamento e il gioco sarebbe fatto. Ho già visto che c'è la possibilità di utilizzare il telefono in tethering, questo è molto interessante, sono tutte feature abbastanza fighe soprattutto per chi ha delle velleità professionali perché a questo punto noi veramente possiamo lavorare in studio con il nostro telefono e scattare, mandare la foto direttamente sul computer e vederla direttamente sul computer, quello che spesso e volentieri si fa con la fotocamera. Adesso si può fare anche col telefono, si può fare anche con questo ultimo iPhone 15 Pro. Lo trovo decisamente interessante, aspetto di vedere ulteriori sviluppi perché sono aperte le prevendite ma mi risulta che non ci sia ancora, quindi ho visto che c'era scritto aperte le prevendite, vedremo sicuramente qualche mio collega qui su YouTube più fortunato con un numero di iscritti un pochettino maggiore lo riceverà in anteprima, probabilmente l'ha già ricevuto in anteprima e starà lavorando furiosamente al video per essere il primo a metterlo fuori giustamente e quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Per adesso io vi lascio semplicemente con la mia opinione, sono preoccupato, sono un po' preoccupato perché questo telefono veramente mi sembra un punto di svolta, mi sembra veramente un device che non costa neanche tanto perché costa meno di tutte le fotocamere e videocamere che io possiedo, quindi non costa tanto e è un'arma veramente che messa in mano di potenziali clienti li mette in grado di farsi delle fotografie e dei video con una qualità accettabile. Poi non la sanno comporre, non la sanno illuminare, non la sanno post produrre, non conoscono i formati, non li sanno postare, non sanno nemmeno a che ora fare i post, però l'arma in mano ce l'hanno e questo è più che sufficiente per convincerli di potersele fare da soli, anche perché nel momento in cui se le fanno da soli non hanno la percezione di quanto male le hanno fatte, credono di averle fatte bene solamente perché le stanno facendo con un telefono nuovo, quindi questo per me, per la mia professione, per i miei colleghi è un problema perché obiettivamente un cliente che crede di potersi fare le foto da solo solo perché ha cambiato telefono è un problema, poi in ampia parte se le può fare da solo, può veramente farsele da solo, le cose tecniche non le sa fare, i tecnicismi, le finezze non li conosce minimamente e se continua a non seguire i miei video non li impara neanche mai, quindi io continuo a ricordare a tutti quanti di seguire questo canale, il bottone è qui sotto, mi date una grossa mano, lasciate anche un like a questo video, il supporto è sempre gradito, che dire, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e non vediamo l'ora di scoprire di più su questo nuovo mirabolante prodotto Apple e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie 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 Grazie